Un'altra storia di amianto, un'altra storia di silenzi ed emarginazioni è la vicenda della Montefibre di Acerra, l'ingiustizia è la chiave attraverso cui leggere la storia di centinaia di lavoratori e lavoratrici. Dopo il licenziamento la malattia, la sbestosi ed anche il mancato riconoscimento per 200 di loro, troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchi per essere reimpiegati. Le 550 euro di mobilità in deroga di fatto li condannano ad una condizione di povertà. Ora la battaglia è per il diritto a vedersi riconosciuta la coabitazione con la fibra killer.